Dopo il terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto ieri mattina vicino a Norcia, sono state registrate oltre 700 scosse dalla rete sismica all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le scosse sono state localizzate nella stessa zona, a confine tra Marche ed Umbria, di queste solo una di magnitudo superiore a 5. Ed è la prima scossa avvenuta le 7.41 di ieri, 30 ottobre. Le scosse con magnitudo compresa tra 4 e 5 sono state 18, quelle con magnitudo tra 3 e 4 sono state invece 301, i terremoti con magnitudo inferiore a 3 sono stati 403. Le persone assistite in maniera diretta durante la notte sono circa 15.000 e ovviamente rappresentano una piccolissima parte delle persone che hanno dormito fuori casa, fra chi ha scelto una destinazione autonoma e i tantissimi che hanno dormito in auto, compresi i centri importanti come Ascoli, Macerata e Fermo. Lo ha detto stamattina il presidente della regione Ceriscioli, tracciando il bilancio della notte appena trascorsa nelle zone del sisma. Il terremoto, ha detto Ceriscioli, è arrivato a dimensioni veramente molto ampie nel nostro territorio. Lo sforzo che stiamo facendo nelle Marche credo non sia paragonabile a quello di nessun'altra regione perché gran parte delle scosse sono state nel nostro territorio. Tutta la provincia di Macerata, molta della provincia di Fermo, gran parte della provincia di Ascoli Piceno e adesso anche la provincia di Ancona dove Fabriano e altre città hanno segnalato danni importanti oltre a moltissime persone che sono uscite di casa. Le dimensioni così ampie fanno sì che lo sforzo della protezione civile sia veramente imponente e sin dalle prime ore lo è stato, ha detto Ceriscioli. Speriamo di poter continuare con questo impegno nelle prossime ore perché in realtà questi uomini e queste donne sono impegnati dal 24 agosto in maniera molto pesante. Per quanto riguarda i trasferimenti delle persone il fatto significativo è che nelle zone delle scosse del 24 agosto, Arquata e dintorni, proprio ieri sono partiti i pullman verso le strutture della costa. Ci sono voluti due mesi per metabolizzare quello che è accaduto e poi con la terza scossa hanno deciso di partire. C'è l'attaccamento alla terra ma la paura rispetto alla scossa sta spingendo verso la scelta di andare via.